Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video come aggiornare qualsiasi scheda grafica, ovviamente scheda grafica Intel, AMD, Nvidia quindi ci sono i link in descrizione che ti porteranno sulla pagina per aggiornare le vostre schede grafiche quindi in questo caso se avete una scheda grafica Intel, per esempio se andiamo sui nostri gestione dispositivi Device Manager, andiamo direttamente su gestione dispositivi scendiamo fino a giù, vieni a trovare la scheda di video, questa è la mia scheda grafica che è della Nvidia GeForce GTX 1660 Super, driver, aggiorna driver, cerca automaticamente i driver la scheda grafica è Jam, tutti i driver sono installati, ovviamente il link che ti ho lasciato in descrizione ti porteranno su queste pagine qua, questo è per Nvidia che ti potrà scaricare il pannello di controllo di Nvidia tipologia di prodotto, scegli così la tua scheda grafica Nvidia il prodotto, fai ricerca e ti fa scaricare così il driver GeForce Game Ready che poi sarebbe questa applicazione qua di Nvidia App e tutti i driver clicchi sul driver e qui puoi scaricare e installare il tuo driver e una volta fatto devi riavviare il sistema una volta fatto con Nvidia passiamo a Intel, stessa procedura, Intel, driver e support assistant scarica ora, scarichi e installi così il tuo driver, fai l'installazione e come ho detto riavvii il tuo sistema operativo stessa cosa anche con AMD, questo è il link che ti ho lasciato in descrizione vai su scarica e configura driver e supporto AMD ed eccolo qua qui scegli il tuo prodotto, ovviamente il prodotto lo trovi direttamente su gestione dispositivi per capire che scheda grafica hai oppure hai, che ne so, una scheda grafica integrata nel processore quindi devi trovare così il tuo prodotto qua dentro vai su grafica, serie AMD Radeon RX 6000 S questa qua, questa qua facciamo invia vediamo così il nostro prodotto e andiamo a scaricare la versione per il nostro sistema operativo Windows 11 o Windows 10 Windows 11 ed eccolo qua data di rilascio l'ultimo aggiornamento 20 di marzo scarichi e installi il tuo driver e come ho detto una volta scaricato e installato il tuo driver tienilo sempre sul tuo pc quel pannello come tengo il mio di NVIDIA perché ogni settimana, due settimane, ogni mese esce così un aggiornamento l'ultimo aggiornamento 4 di aprile ho scaricato adesso, ora me ne sono accorto e fai e riavvia il tuo sistema operativo tutto qua e scarichi e installi il driver per la tua scheda grafica quindi se questo video ti è stato utilissimo come scaricare e installare i driver per la tua scheda grafica mantenerla sempre aggiornata è importante per se tu sei un giocatore giochi a moltissimi giochi e poi hai problemi di errori, grafica è perché non aggiorni la scheda video quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao